Le tecnologie digitali stanno entrando prepotentemente in medicina e possono essere utili in varie fasi della malattia, dal momento della diagnosi al momento del monitoraggio, anche per capire l'effetto delle terapie che si sono messe in ato. Noi parliamo di questi temi riferiti a una patologia neurologica rara, ma purtroppo molto grave, che è la neuromielite ottica e facciamo il punto con un vero esperto, con il professor Stefano Rossi, che abbiamo incontrato qui a Roma nel corso di un evento, che ha fatto il punto proprio su questi temi. Professor Rossi, la biomeccanica, che è appunto una delle scienze di cui lei si occupa all'università, come può migliorare la gestione delle patologie neurologiche? Oggi si parla nell'evento di oggi di neuromielite ottica, ma in generale di patologie neurologiche croniche, di tipo degenerativo. Sì, allora la biomeccanica è una branca della bioingegneria in generale, e si occupa proprio di andare a studiare il movimento, in questo caso il movimento umano, ma c'è anche una biomeccanica ovviamente del sistema biologico, quindi una microbiomeccanica. In questo caso noi possiamo andare a valutare come la persona affetta purtroppo da un disturbo neurologico riesce a camminare e come la progressione della malattia può andare a incidere sul movimento e sul cammino. Il grande vantaggio rispetto a ciò che si fa normalmente nella prassi clinica è cercare di andare a misurare in modo oggettivo questi parametri, non basandosi esclusivamente su test che purtroppo per la loro natura sono profondamente soggettivi o soggettivi da un punto di vista del paziente, quindi sono domande che si rivolgono al paziente su come si sente, su se riesce in qualche modo a compiere un movimento, oppure sono soggettivi da un punto di vista del medico, perché è il medico che pone quelle domande e quindi cerca o valuta con dei movimenti la capacità motoria del soggetto e quindi è lo stesso medico che fornisce una scala per valutarla. Siete, lì nell'evento di oggi ha parlato di sensori particolari che vanno proprio a quantificare il movimento, la sua quantità ma anche la sua qualità. Ecco, ci riesce un po' a descrivere come funziona questi sensori, dove vengono inseriti, in che maniera e come vengono trasmessi i dati, chi li misura, insomma ci faccio un po' capire qual è il funzionamento di questo sistema? Sì, allora, i sensori che si utilizzano sono di due tipi normalmente, dei sensori si chiamano sistemi optoelettronici, ma sono degli strumenti che hanno necessità di essere posizionati in un laboratorio, sono delle telecamere, il sistema è estremamente costoso, o se no, ultimamente, negli ultimi, diciamo, 5-6 anni, si stanno utilizzando, anche iniziano a utilizzarsi nella pratica clinica, dei sensori chiamati sensori inerziali. Questi non sono nient'altro che ciò che troviamo normalmente nei nostri cellulari. Quindi sono accelerometri, giroscopi, magnetometri, delle piccole scatoline di qualche centimetro di dimensione che andiamo a posizionare tramite delle fasce di velcro sui segmenti corporei della persona. Quindi, ad esempio, se ne posizioniamo uno sulla gamba, uno sulla coscia, riusciamo a misurare tramite degli algoritmi, e questo è il punto di vista ingegneristico che c'è dietro, riusciamo a misurare, ad esempio, gli angoli di rotazione del ginocchio durante il cammino. Tramite questi riusciamo ad avere una misura oggettiva di come sta camminando la persona. Ovviamente, utilizzandone sette, riusciamo ad avere e a studiare la cinematica del cammino senza nessun problema. Direi che è riuscito a spiegarlo in maniera molto chiara, in fondo a farcelo anche un po' così visualizzare. Ecco, ma quando ha senso utilizzare un sistema che comunque, almeno per adesso, mi sembra abbastanza complesso? Ovvero solo per studi clinici, per magari determinare l'effetto di un certo farmaco, oppure di una certa procedura riabilitativa, oppure potrebbe essere qualche cosa un po' più su larga scala da applicare proprio anche quotidianamente, giorno per giorno, magari non solo nelle fasi iniziali, nei pazienti più giovani, per capire appunto se una certa terapia sta dando l'effetto sperato. Allora, in campo clinico sicuramente adesso siamo un po' agli albori dell'utilizzo, quindi si utilizza molto in fase di ricerca, stiamo cercando di farli entrare all'interno degli ospedali anche per avere delle valutazioni cliniche. L'obiettivo è quello di riuscire a utilizzare questi sensori addirittura a casa del paziente, perché sono estremamente poco ingombranti, si possono utilizzare senza problemi, ovviamente si possono far fare gli esercizi di valutativi al paziente a casa propria, quindi evitando di spostarlo, far andare magari in laboratori di analisi del movimento, nelle strutture a parte dove è tutto più complesso. E il paziente cosa dice? Il paziente sicuramente ha dei vantaggi di utilizzo rispetto all'altro sistema di misura che ho citato prima, ad esempio si possono applicare sui vestiti, quindi non c'è più necessità di far camminare il soggetto all'interno dei laboratori, magari con l'intimo, ed è un qualcosa di estremamente rapido, perché riusciamo a fare un'analisi di una camminata veramente in 5-10 minuti e il soggetto applica dei sensori e non si accorge di nulla. In realtà questi sensori, mi fa piacere sottolineare, sono anche sensori ormai che stanno trovando un grosso utilizzo, ad esempio nello sport, come valutazione delle performance sportive. Quindi sono sensori che stanno piano piano andando a occupare una grossa parte di interesse nel panorama, sia sportivo che soprattutto climico. Ultima domanda, i sensori vengono sviluppati all'interno di università, come per esempio la sua, oppure sono sensori del commercio di aziende che li producono e li vendono per questo tipo di utilizzo e magari anche per altri scopi? Sì, questi sensori sono stati sviluppati in varie università nel tempo, ormai però come ogni prodotto parte da una fase di ricerca ma poi di sviluppo, quindi ci sono delle grosse aziende internazionali che li vendono. L'utilizzo che si fa ancora in ambito di ricerca ingegneristica è quello di applicare degli algoritmi e sviluppare algoritmi per avere un dato sempre più buono e privo con incertezza minore e quindi più affidabile.